E' stato scoperto dai carabinieri mentre spacciava droga ed è scappato, ma è stato acciuffato dopo un breve inseguimento quando nel tentativo di far perdere le proprie tracce è rimasto impantanato nel letto del canale Olonetta. La rocambolesca vicenda è accaduta nelle scorse ore a Pieve Portomorone, qui nei pressi dell'Argine del Po che i militari hanno provato a fermare una prima volta l'uomo, un marocchino di 33 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Alcuni cittadini residenti poco prima avevano infatti segnalato strani movimenti in quelle zone rurali. A loro arrivo i carabinieri si sono trovati davanti tre persone che vedendoli se la sono data a gambe mentre due riuscivano a fuggire, il terzo in un tentativo disperato si era buttato nel canale Olonetta restando però impantanato nel fango del fondale. Ormai circondato, il pusher non ha potuto far altro che arrendersi e lasciarsi perquisire addosso aveva 150 euro in contanti e il telefono con cui contattava i clienti mentre nel giubbotto che aveva abbandonato mentre scappava c'erano 50 grammi di hashish, 7 di cocaina e 25 di eroina. L'uomo risultato irregolare in Italia è stato quindi arrestato per spaccio e permanenza illegale sul territorio nazionale.